quello che state per vedere è il primo video di una serie che riguarda la storia romana quando è stata fondata roma nel 753 avanti cristo per memorizzare la data è semplice basta ricordarsi il 7 quindi abbiamo tre numeri disperi in ordine discendente 753 753 avanti cristo della fondazione di roma conosciamo oltre l'anno anche il giorno 21 aprile 753 avanti cristo è importante conoscere l'anno della fondazione di roma perché il calendario romano si fonda su questa data l'anno zero per i romani è l'anno della fondazione della loro città a differenza di noi cristiani che utilizziamo come anno zero la data della nascita di cristo